Ed eccoci qua tornati anche questo sabato, Dufere e Boldrin, qui sul ring, pronti per scazzottare contro il mondo. No, no, cosa sto dicendo? Michele, fermami, ciao! Hai delle brutte intenzioni oggi! Cattivi propositi, cattivi propositi sempre. Come stai? Sempre cattivi propositi. Oggi ti vedo molto elegante, se vieni da una riunione d'affare, hai venduto, hai firmato con una grande azienda cinematografica? Beh, no, quello l'ho già fatto tante volte, in realtà c'è la cravatta nera. Ah, in realtà mi sto riabituando alla cravatta, mi sto riabituando alla cravatta. Bravissimo, bravissimo. Io mi sono disabituato, però ogni tanto ho nostalgia. Una volta avevo una gigantesca collezione di cravate, poi buttate, poi le ho ricostruite, ma in realtà me le porto per abitudine antica, sempre appresso quando viaggio. E non le metto praticamente mai. Mai, mai. Io quando viaggio di lavoro dico, non si sa mai, e butto lì 3-4 cravate. Poi torno a torno e dico, queste 4 cazze cravate. No, io per anni ho messo la cravatta via, proprio nascosta, perché quando lavoravo prima nel campo della finanza, assicurazioni, ero costretto a metterle, e quindi era un cappio. Adesso che non sono più costretto, invece, mi sono ricordato che è un indumento che mi piace, quindi ho detto adesso mi riabituo a portarle, e quindi eccola qua. Vabbè, tutto lì, è un bel vezzo. Ma, ma, bando alle ciance. Di cosa parliamo? Bando alle ciance, anzi no, ci siamo sentiti un attimo, io ti ho suggerito, parliamo di ciance. Parliamo di ciance. Parliamo di ciance, così faccio arrabbiare subito i tuoi ascoltatori più fedeli. Andiamo alle ciance, ho suggerito a Riccardo, e parliamo della filosofia, nel senso popolare della parola, oggi, come luogo della ciance, anzi, io non dissi ciance, dissi doxa, il luogo dove l'opinione non strutturata, non disciplinata da fatti e logica, si lascia andare e dice, beh, insomma, quella è la tua opinione, è il luogo del, questo lo dice lei. Beh, certo, in effetti, se ci pensi bene, non so, io non avrei mai l'ardire di avere un'opinione sull'idraulica, per esempio, ma quando l'idraulico viene a casa mia, c'ha sempre la sua opinione filosofica, e poi quando si va a chiacchierare, si va a ragionare, alla fine dei conti, quando lo si mette di fronte anche alle sue contraddizioni, lui dice, vabbè, ma è la mia filosofia. Ognuno ha la sua filosofia, e la filosofia, giustamente, è diventata questo sinonimo di chiacchiericcio, di pur parler, ecco, il pur parler è la filosofia, e quando invece dovrebbe essere una cosa un po' diversa, ecco. Ma il problema lì è l'evoluzione, a mio avviso è stato, la filosofia una volta era, cioè la filosofia nasce come il tutto, e quindi nasce letteralmente come il pensiero strutturato e disciplinato che cerca di capire, e poi mano a mano, secondo me, è vittima del suo successo. La filosofia classica occidentale, quella di 2500 e passa anni fa, no? È vittima del suo successo, nel senso che progressivamente ha prodotto la matematica, la geometria, la fisica e via andando. L'ultima anche l'economia, che non è che sia a grandi livelli di scientificità, però nasce come filosofia morale, di fatto, no? Eh sì, eh sì. Nella sua versione è indipendente, poi si indipendentizza, si ritaglia il suo orticello di dati, comportamenti, osservazioni da cercare di capire, e diventa una disciplina autonoma. Per cui è molto divertente che invece la professionalizzazione del filosofo avvenga letteralmente un po' più tardi. Se ci pensi, i filosofi che noi abbiamo in mente non sono professori di filosofia integrati in sistemi universitari, fino a praticamente Hegel, credo. Adesso non vorrei... Kant, Kant è il primo che dà vita all'immagine. Kant è professore, ma era professore in università. Sì, sì, Kant insegnava, anche Kant insegnava, sì, sì, assolutamente. E da lì, è da fine Settecento che infatti il filosofo comincia ad essere l'accademico, ecco, mettiamola così, o perlomeno quello che ha un ruolo scientificamente riconosciuto dalla comunità, questo indubbiamente. Poi, sai, c'è sempre da aggiungere un elemento, il fatto è che i più importanti lavori che questi personaggi poi hanno fatto, li hanno pubblicati quasi tutti al di fuori dell'accademia. Quindi comunque il vero lavoro del filosofo è rimasto un lavoro, voglio dire, Schopenhauer insegnava, però il mondo come volontà rappresentazione non è derivato dalle sue lezioni universitarie, è derivato da... Sì, sì, poi uno scrive, per carità, diventa una... Sì, 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 la professionalizzazione è arrivata più tardi. Il punto secondo me è rilevante che oggi, e io devo dire, anche se c'è tutto questo dibattito, la separazione fra filosofia continentale, filosofia analitica è dannosa alla disciplina, eccetera. Ma in realtà è giusto, la filosofia analitica è una branca indipendente ormai della matematica, della logica, della linguistica, con diversi campi che si interscano. Fondamentalmente è, e sono certissimo che molto presto, specialmente quelli fra di loro che si interessano di processi cognitivi, meccanismi decisionali, eccetera, eccetera, finiranno a essere una roba indipendente dentro il mondo delle neuroscienze, perché di questo si occupano. Già avviene, già avviene in effetti. Sì, già lo so, in un certo senso, ma anche formalmente finirà per essere riconosciuta. Invece quella che si chiama filosofia continentale rimane un pastrocchio. Io ci stavo riflettendo anche l'altro giorno, guarda, stavo, ho i pittori in casa. Che, santa madonna, mi stanno distruggendo la casa dopo avermi promesso che la terrebbero pulito. Non importa, comunque, amorevolmente cercavo di togliere la polvere dai miei libri storici, diciamo, quelli in una delle stanze della casa, ed ero nella sezione della filosofia. E quindi avevo tutti questi libri di filosofia letti tra i 17 e i 35, poi a un certo punto ho calato molto di quello che appunto chiameremo filosofia continentale. E guardavo alcune di queste robe e dicevo, ma guardati dove avevo perso tempo mio. Ma guarda, allora, qui il discorso è veramente… Non mi ricordo cosa ho imparato. L'altro giorno qualcuno si è arrabbiato perché ha detto Boldrin, c'altrone, ha detto che Derrida ha contribuito praticamente a niente. Non mi ricordo cosa ho imparato da Derrida io. Allora, guarda, c'è un discorso molto ampio da fare. Allora, partiamo da un presupposto. La suddivisione nei diversi campi della filosofia continentale, analitica, in realtà c'è sempre stata. Un tempo c'erano i sofisti e gli stoici, poi ci sono stati gli scolastici, neoplatonici, gli aristotelici. Ci sono sempre state le cose. Io, quello che può essere magari fastidioso… Non lo vedo mica così, ma vai avanti. Aspetta, aspetta. Non c'è nel senso. No, vai, vai, tranquillo. Io credo che la filosofia sia sempre stato un movimento molto composito, ok? Ciò che può infastidire è il campanilismo. Io, una delle cose che per esempio non sopporto, io sono un lettore tanto di filosofi continentali quanto di analitici. Per esempio, io recentemente mi sono letto questo bellissimo libro di Francesco Berto, che magari tu conosci. L'esistenza non è logica. Lui è forse l'italiano analitico più interessante in circolazione. E io leggo tanto lui quanto Emil Cioran, tanto Heidegger quanto Kripke, ok? Quindi a me infastidisce più che altro il campanilismo, cioè il fatto che i continentali cercano di esautorare continuamente gli analitici, gli analitici tentano di esautorare i continentali, e in questo modo tu non hai magari degli incontri che potrebbero essere molto prolifici. Perché? Perché la filosofia, nel momento in cui si produce, è sempre settorializzata. C'è chi si occupa di quella cosa, poi oggi ancora di più, un po' per le tecnologie, un po' per l'ampiamento dei saperi, un po' per l'avanzamento delle scienze. Oggi forse è un po' più specializzata e un po' più settorializzata, però questa cosa c'è sempre stata. Quando però noi guardiamo indietro, la cosa veramente interessante della storia della filosofia non è studiare i settori, ma è studiare le contaminazioni, è studiare il momento in cui Spinoza, da naturalista, cerca comunque di interpretare un campo etico dell'esistenza. Quando Kant utilizza da un lato le scienze cognitive del suo tempo e dall'altro cerca di creare una disciplina morale. E quindi quando guardiamo indietro, la cosa veramente interessante da guardare è proprio il momento in cui i settori vanno poi a confliggere. E io credo che le cose più interessanti dell'oggi, fra 200 anni, di nuovo saranno queste. Cioè sarà il momento in cui, studiando i modi con cui abbiamo affrontato il problema dell'intelligenza artificiale, ci andiamo a studiare, anzi andranno a studiare, perché fra 200 anni io e te mi sa che non ci saremo, andranno a studiare i modi in cui i filosofi... Parla a nome dell'umanità tutta. Esatto, hanno cercato... Quando Riccardo si sente... E lui parla, giustamente, da filosofo, parla a nome dell'umanità tutta. Quindi ecco... Sono qui a rappresentare l'umano. Io invece l'inumano, il disumano, il subumano. Adesso te lo interrompo, perché dopo questa filippica sulla contaminazione, che appunto mi piace questa cosa del contaminarci, anche questa è una terminologia di origine ben identificata, non mi ha risposto alla domanda, ma io da Derrida, cos'è che dovevo imparare, scusa? Ma Derrida, allora ti dico, anch'io da Derrida non ho imparato praticamente nulla, cioè nel senso... Però vabbè, ed era il punto. Derrida non è uno di quelli che... Il punto è che ci sono terreni di quella che noi ci chiamiamo filosofia, ma ne sono reso conto negli altri. Oh, se mi sente, scusami, se mi sente Simone Regazzoni, che è mio amico, arriva qua e mi tira una mattonata in testa. Se ci vieni a spiegare, io ci ho provato anche, se vuoi, anzi ricordati un giorno, dobbiamo, forse anche questa è l'occasione, dobbiamo, mi devi spiegare che cosa c'è da imparare da Emanuele Severino. Dobbiamo parlare anche di Severino. Dobbiamo parlare anche di Severino. E nel senso, io ho cercato di riandare alla mia vita filosofica, che è lunga, per quanto molti si dilettino a ritenere che siccome non c'ho la laurea in filosofia, non posso di filosofia discettare. E mi ricordo che per molti anni, tutti gli anni fondamentalmente della parecchio tarda adolescenza, forse più durante gli anni 20 miei, tra il 19 e il 29, c'era il piacere della lettura. Alla fine della quale ti rendevi conto che non era il concetto, se c'era un concetto, a parte la sua, non dico verificabilità, ma anche solo vagamente testabilità, no? Del tutto improbabile. C'era un piacere della lettura. C'era una raccoglia. Gadamer era divertente da leggere. Oddio, Gadamer divertente. Sì, lo so, è un po'... Cioè, è uno di quei piaceri, è uno di quei guilty pleasures, dai. Non mi spiego, secondo me è scritto bene. Al contrario del tardo massimo, eccetera, Cacciari che è scritto secondo me male, si arzigogola, mentre quello di Cris era scritto bene. Sono contento che anche nella sua recente intervista anche lui abbia riconosciuto che Cris alla fine, anche se non diceva nulla di nuovo, importava nel panorama istantivo italiano e non professionale pensieri e riflessioni che ci erano sconosciute. Però alla fine della lettura io mi sono reso conto che su molte di queste cose, nell'aspetto concettuale di conoscenza del mondo e di me stesso, non c'era poi molto, c'erano cose alcune piuttosto banali, però era molto bello leggerle, leggerne gli esempi, la narrazione, la descrizione. Era come leggere appunto Proust, un romanzo, cioè Proust che ti descrive la vetrata, la luce che filtra dalla vetrata della chiesa dove lui va e lo descrive in questi minimi dettagli, la stessa emozione, diciamo così. Leggevo, non c'era nessuna differenza fra leggere Delilah e leggere Bataille o leggere, non lo so, appunto Barth, molto di Barth, sono cresciuto e mi pare che vada bene, la cosa strana che mi ha sempre colpito e vale anche per altri, per esempio una che va assolutamente di moda tuttora, a me spaventa, invece la trovo assolutamente antipatica, è questa pseudo-ultralibertaria la Ayn Rand, no? Non so se conosce. Ah, beh, certo che la conosco molto bene. Questa ideologa del, non so neanche come chiamarlo, del cretinismo suprematista dell'uomo libero Superman che spacca il culo al mondo, no? E lei ha raccontato delle storie che hanno ispirato persone a sentirsi parte di una strana elite di liberi assoluti. La cosa tragica è quando si vuole trasformare queste che sono esperienze esistenziali, io credo. Quindi certamente luoghi dove la doxa è, deve valere per definizione, in teorie del mondo. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa. Allora, no, questo, allora, cerco... Il filosofare diventa teoria del mondo. Cerco di risponderti... In quale mondo, se non avete mai guardato a mezzo d'altro, se quello che dite è incoerente? Cerco di risponderti a questo. Forse, va bene? Ecco, cerco di risponderti a questo. Io credo che il grande errore... Tu stai parlando con un grande amante della letteratura, della Rand, pur riconoscendo che ci sono tantissime cazzate. Però io i libri della Rand li consiglio pure di leggere molto spesso. Cioè, la virtù dell'egoismo rimane un bellissimo trattatello di filosofia, secondo me, che può essere letto perché all'interno c'è una visione del mondo che perlomeno contrasta con una buona parte del modo con cui, diciamo così, fra gli anni 40 e gli anni 80 negli Stati Uniti si vivono certe situazioni. La trilogia del... Detesto la fonte meravigliosa, più che altro perché c'è quel concetto di victim blaming che io rigetto totalmente. All'interno della Rand, credo come all'interno di tutti gli autori, riconosco alcune cose che sono interessanti, altre no. L'errore, per esempio, prendo lei come paradigma di quello che hai detto, l'errore enorme è quello di prendere la Rand e usarla per farsi una teoria del mondo, come tu l'hai definita. Cioè, nel senso, io credo, di questo sono abbastanza convinto, poi magari nel corso del tempo cambierò l'opinione, che ci siano diversi tipi e diversi gradi di conoscenza i quali non si autoescludono. Cioè, se io oggi, non so, mi studio Daniel Dennett, visto che l'abbiamo citato qualche tempo fa, a riguardo dell'intelligenza artificiale, io riconosco le informazioni che Daniel Dennett, all'interno della sua ricerca, mi porta per la comprensione, al grado scientifico, di alcuni elementi di cui lui va discutendo, le scienze cognitive, la natura della coscienza, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Stessa cosa se leggo un libro un po' a metà strada come Gödel Escherebach di Hofstetter, che è un libro a metà strada fra trattato di filosofia analitica e letteratura, perché lì c'è proprio della letteratura, c'è proprio, anche e soprattutto quando parla della filosofia zen, lui va per vie che sembrano molto distanti dalla trattazione che fa. Però poi c'è un grado di conoscenza che non ha a che fare con le teorie del mondo, ma ha a che fare con... Vediamo se riesco a dirlo meglio. con la somiglianza nei miei confronti. Cioè, aspetta, non adesso cerco di chiarire quello che voglio dire. Io sono un foierbacchiano convinto, ok? Sono convinto che per esempio andare a leggere la Bibbia... Cosa vuol dire essere un foierbacchiano convinto? Adesso te lo dico, adesso te lo dico. Sono convinto... Falouting, falouting ragazzi, faccio l'outing. Registrare, faremo un pezzo suore con... Leggere... Make you fair falouting. Che bello essere presi per il culo da Mike. Sto imparando anche io a fare un po' lo youtuber. Vaffanculo Mike, Gesù un youtuber. Allora, leggere la Bibbia, leggere la Bibbia, per me, non ha... Io sono... Io ho letto varie volte la Bibbia, anche le parti più noiose, e io credo che non abbia a che fare con conoscere il mondo. Cioè, la Bibbia non ti dice un cazzo su come è fatto il mondo. E quando la gente si convince di questo, lì hai i grandi travisamenti, non solo del mondo, ma anche di se stessi. La Bibbia mi serve per ricordarmi a cosa io somiglio. Cioè, per esempio, la letteratura mi serve per capire quali sono le cose che mi muovono di più verso un'idea. Cercare di comprendere meglio perché e in che modo alcuni elementi, alcune idee, alcune narrazioni, alcune pagine riescono a interessarmi più di altre. Se leggo American Gods di Neil Gaiman, io non lo leggo perché credo che Neil Gaiman abbia detto qualcosa sul mondo, ma credo che abbia detto qualcosa, ovviamente su di sé, ma che riesca a tirar fuori qualcosa di me. Da questo punto di vista Heidegger aveva perfettamente ragione. Tra tutte le puttanate che ha detto nella sua vita e scritto, però una cosa l'ha detta giusta, la letteratura, l'arte e anche una buona parte della filosofia serve non per dirti qualcosa sul mondo, ma per svelare alcune parti di te che altrimenti non verrebbero mai fuori. Ok? Sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo, purché ce lo si tenga in mente. E sono anche d'accordo di attribuire a te questa cosa con te di dire Heidegger l'ha messa in ordine, l'ha detta bene. L'ha detta molto bene. Io nonostante tutto sono tuttora un lettore affezionato proprio di Heidegger e credo che uno dei libri che in vita mia ho letto più frequentemente, questo farà inorridire molti, siano i Sentieri. I Sentieri ininterrotti sono un libro straordinario che è basato tutto su questo. Che però parla solo di me, di fantasie mie, percezioni. Eh ma vedi, basta essere coscienti di questo. Allora, eccolo lì il punto. Allora finisci con il tuo Feuerbachismo, scusa. Sì, sì, sì. Allora. Perché io non lo vedo, perché al momento sono Feuerbachiano anch'io, quindi la cosa comincia a preoccupare. Adesso arrivo a Feuerbach. Ti qualcosa che io non condivido perché se no mi preoccupo. Adesso magari ci arriviamo. Coprirmi Feuerbachiano a 62 anni e mezzo guarda che io non lo so se dirò qualcosa con cui sei disaccordo perché le nostre potrebbero lacerarmi per sé, prefallo Rick, di qualcosa. Vuoi che ti laceri? Liberami da liberami da questo calice. No, basta, basta. Io me ne vado Mike, me ne vado. Sarà che fra due giorni finalmente vedo la mia morosa compagna ma oggi sono di particolare buon umore. Ok, bene, sono contento e ti stai sfogando con l'ironia su di me quindi va bene, va bene. No, sono di buon umore. Stasera berrò di più per colpa tua. No dai, sto scherzando ovviamente. Stavo dicendo per questo Derrida a te non ha insegnato nulla ma leggerlo non significa che non ti abbia creato degli effetti. Cioè il modo a cui sei arrivato ad alcune informazioni tu non ha a che fare soltanto con le nozioni che hai imparato. Ha a che fare anche adesso preso Derrida ma possiamo prendere altri mille autori. ha a che fare anche con alcuni elementi che forse Derrida ti ha trasmesso ma che non hanno a che fare con la tua conoscenza con la tua erudizione o anche semplicemente con la memoria che hai di quello che hai letto. Ma ciò non significa che questo sia stato totalmente inutile o dannoso. Ovviamente le facciamo le letture inutili io ricordo tanti filosofi che ho letto e che ho detto fra cui anche Derrida per me Derrida è stato un autore on passant che non ho particolarmente apprezzato a parte alcune cose io ci ho perso parecchio tempo no io per fortuna non tantissimo tempo anche perché io sono arrivato alla filosofia da interessi profondi in critica letteraria per cui grado zero hai capito? Certo 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 ma aveva molto preso a 18 anni io credo che il tuo modo di vedere il mondo cioè non la teoria del mondo ma la tua prospettiva sul mondo sia stata formata anche dalle cose che non hanno a che fare con dirette informazioni ma che ti hanno ricordato a cosa assomigli cioè il fatto di rigettare Derrida il fatto di dire Derrida non mi ha dato nulla ti ha comunque permesso di selezionare meglio in futuro le cose a cui avvicinarti e questa cosa è importante ho trovato perché non sono Foyer Bacchiano se questo ad essere Foyer Bacchiano ho trovato perché adesso adesso lo faccio arrabbiare hai appena detto una bella tautologia quello che hai detto scapisci vale per tutto certo che vale per tutto nei processi di stimolo di percezione di colori suoni emozioni eccetera eccetera della mia vita tutto ha contribuito ovviamente a livelli quantitativi diversi la mia mamma ha parecchio più parecchio di più delle urla della zia Maria però anche le urla della zia Maria avrebbe potuto evitarsene avrebbe potuto evitarsene sarei stato più contento quando avevo sette anni non sentire che gridava a cazzo va benissimo però senz'altro ha influenzato la mia percezione della donna che grida ma questo non può essere la definizione né può essere la giustificazione per cui leggiamo di filosofia ma ovvio poi bisogna andare allora e qui e qui e qui no perché qui c'è un rischio qual è il rischio che mentre le urla della zia Maria l'odore dei cavoli cotti la passeggiata sfortunata sotto la pioggia mentre speravo di potermi godere il lungomare al tramonto ma senza pioggia hanno lasciato qualcosa tracce neuronali nella mia memoria sensazioni eccetera che mi costruiscono però non mi sono avvicinato a loro con l'intenzione o con l'idea o con la speranza di trovarci verità spiegazioni del mondo o di capirli mentre ai vari Derrida Deleuze hai dedicato un sacco di tempo anche Vattimo adesso per parlare dei più noti o la Randa molti molti si avvicinano ecco io questa cosa gliel'ho menzionata tempo fa a Gerardo il mio amico psichiatra menzionando Lacan per esempio ti ricordi il tempo perso a leggere ossessivamente i seminari di Lacan nell'edizione quella dei saggi e i naudi io mi sono sentito un uomo più libero e più tranquillo il giorno in cui ho scoperto che non ero l'unico a trovare quelle cose uno sbrodolarsi di parole senza nessuna rilevanza non c'era niente che dovevo capire che io non capivo perché non c'era niente da capire c'era uno in preda a una forma di diarrea verbale che si raccontava e lucubrazioni strane al suo cervello con zero referenza ecco se accettiamo che è così per quello io ti ho provocato oggi dicendo un pezzo della filosofia è diventato il luogo della doxa va benissimo però siccome faccio di professione oddio che brutta parola l'educatore o meglio siccome mi interessa capire come funziona il mondo funzionano gli altri e ormai raggiunto ad un'età non più troppo giovane ancora sono più o meno a metà del cammin della mia vita vedo gente più giovane avvicinarsi a queste cose mi viene spontaneo dire state attenti non andate sperando di trovare nel god of the machine delle verità profonde sul mondo che non che non conoscete di cui pensate di aver bisogno se poi non vi sembrano tali vi sentite anche un po' scemi come mi sentivo io quando leggevo appunto la canna o la Lucie Rigari perché non ce n'è è della gente che si racconta si racconta bene ha uno stato sociale questo li ha trasformati in metà pensè però questo sono non sono la stessa roba che leggere Newton assolutamente sì che c'è da imparare Newton è la sua versione diciamo moderna ed è verissimo e questo è un monito che si dà sempre io per esempio questo lo trasformo sempre in un se sei appassionato di Deleuze devi assolutamente andare a leggerti anche anche Patnam devi leggerti appunto Dennett devi leggerti autori che vanno in una direzione completamente opposta perché poi il problema che tu denoti è fossilizzarsi su un certo tipo di autore crearsi la eco chamber filosofica in cui tantissimi oggi cadono però 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 non vorrei che il mio discorso di prima passasse per un va tutto bene non va tutto bene la selezione degli autori e il riconoscimento della cattiva filosofia è fondamentale ed ecco dove subentra secondo me Feuerbach che citavo prima perché ancora non ho esplicitato quel punto lì ah il Feuerbachismo sono ancora sotto rischio esatto sei ancora sotto rischio perché vedi Feuerbach a me ha illuminato quando lo incontrai per la prima volta perché io da ateo di nuovo ateo convinto madonna quante cose convinto in realtà non sono convinto di un cazzo ma è soltanto per è pieno di convinzioni sono convinto anche della cravatta vedi in realtà non dovrei esserlo ma in realtà quello che voglio dire è che leggere Feuerbach mi ha ricordato una cosa che essere atei per esempio non significa non guardare alla religione come qualcosa di utile ma utile non in quanto essere religioso ma in quanto studiare quello che lui dice nell'essenza della religione per me rimane ancora me lo scriverò fuori dal portoncino di casa un giorno conosci i tuoi dei conosci te stesso cioè cosa significa significa che tutto quanto quello che è manifestazione culturale in realtà a me io che ho capacità di discernimento e di analisi grazie anche alla buona filosofia con cui entro in contatto è indizio per capire meglio il mondo da cui emergono certe cose hai citato Lacan ci ho passato un sacco di tempo io sulla Lacan e alla fine sono arrivato alla conclusione identica alla tua Lacan era una persona innamorata della sua voce e della sua penna e come tutte le persone innamorate della sua voce e della sua penna in mezzo alle buone idee che può aver avuto però c'è un sacco di brodaglia incredibilmente inutile ok però leggere Lacan e avere in qualche modo capito per quanto si può capire Lacan mi serve per avere ulteriori indizi perché il motivo per cui Lacan è emerso in quella data epoca mi serve per capire per esempio anche il motivo per cui Deleuze per cui Derrida sono emersi in quel contesto culturale e tu da scienziato lo sai bene no no ma per carità ma quello che ti stai facendo qui adesso è praticamente un tentativo di ricostruzione storica di alcune deviazioni della doxa di perché certe cose affascinano in certi periodi e l'insieme il background per dire alla sierola senza quella cosa lì non avresti neanche la buona filosofia perché poi la buona filosofia deriva dalla comprensione dei motivi per cui a un certo punto emergono alcune cose quindi sono d'accordo con te non perdete tempo non perdete troppo tempo con Derrida con tutti questi ma perdetecene un po' perché altrimenti se cominciamo a leggere soltanto quella che per noi è buona filosofia facciamo l'errore opposto e ci dimentichiamo che se vuoi capire il mondo che ti circonda e se vuoi capire il mondo che ci sta intorno tu devi anche avere consapevolezza del modo in cui negli ultimi 150-200 anni si è fatta cattiva filosofia il modo in cui si è fatta è traccia del tempo in cui si è fatta e radice del tempo che vivi ed è per questo che un po' di tempo deve dedicarcelo non può io detesto quando sì sì no d'accordo mi va di dire questa cosa mi è venuta in mezzo sono d'accordo però permettimi di nuovo il caveat non solo dell'educatore ma anche un po' del vecchietto questa cosa mi è venuta da questa insistenza sul fatto che si studia poca filosofia eccetera ha fatto questo dibattito anche con Massimo Mugnai allora lasciate che aggiunga però chi ci scusa sì fatelo però solo dopo che vi siete garantiti di aver capito le cose che di sicuro vi servono e cioè solo dopo che riuscite o avete un minimo di consapevolezza del mondo così com'è e non come alcuni si sono immaginati che debba essere o che dovrebbe essere o che potrebbe essere perché altrimenti nel dare troppa enfasi nel pensare fondamentalmente che non sei un vero fra virgolette intellettuale o meglio una persona con un'educazione una cultura appropriata a capire il mondo se non ti sei letto quelli di moda a me terrorizza piuttosto questo questo viene questo non è una cosa solo italiana è una cosa molto europea che è una sopravvalutazione veramente eccessiva del contenuto cognitivo di quello che puoi imparare da ciò che chiamiamo la filosofia moderna e contemporanea sì 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 è una sottovalutazione di quello che invece puoi imparare del mondo del tuo vivere di te stesso a leggere che so biologia o neuroscienze ma ancora di più ti dico la quantità di ragazzi che dedicano tantissime ore a Lacan o alla variante di Lacan e pochissime ore alla geometria certo è piuttosto spaventosa e francamente non è che la geometria sia così più difficile che Lacan 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 non è difficile è semplicemente incomprensibile cioè nel senso Lacan Lacan è semplicemente mona e quindi cosa vuoi farci non puoi farci nulla la geometria la capisci perché ci sono gli strumenti per capirli Lacan non ti dà neanche gli strumenti per capirlo neanche linguistici quindi è un problema enorme però ecco io sono molto in linea con quello che dici io sono un po' più radicale in questo cioè io una cosa che ripeto sempre è a scuola eliminate storie della filosofia e fate filosofia cioè gli strumenti di cui parli sono logica teoria dell'argomentazione tu però hai appena suggerito di fare storie della filosofia come? tu guarda che hai appena suggerito di leggere questi per fare storie della filosofia o meglio no no ma io sto parlando della scuola sto parlando del pensar comune o del vedere il mondo in certi sto rispondendo al tuo stimolo del dire prima di fare quello preparatevi gli strumenti preparare gli strumenti significa fare filosofia cioè infatti io infatti credo che questa gente sia assolutamente illegibile e faccia veramente male se leggi loro prima di esserti occupato seriamente a un attimo di capire si si tecnicamente la filosofia chiamiamo no? lì ci vuole lì ci vuole una riforma proprio del del modo di pensare non c'è nulla da fare guarda ti dico vabbè adesso il pubblico non capirà quello che sto dicendo perché in realtà stiamo trasmettendo anzi stiamo registrando di mercoledì uscirà di sabato io nel nostro domani cioè giovedì farò uscire un video sul mio canale in cui dirò che sono molto d'accordo con la tua visione sul liceo classico e spiegherò un po' questa cosa cioè nel senso io per esempio sono stato chiamato in un appello su twitter a cui non ho risposto salviamo la filosofia nei licei ma no invece la filosofia nei licei come viene insegnata oggi va ammazzata ma va ammazzata perché perché tu non stai facendo filosofia tu stai dicendo guarda che c'è una persona che si è chiamata Immanuel Kant che nel 1787 ha scritto un'opera dal titolo critica della ragion pura che è divisa in questi capitoli ma cazzo ma un ragazzo di 17 anni ma cosa vuoi che abbia a che fare con quella roba lì e invece devi riuscire a contestualizzargli i problemi cioè per arrivare a capire e a sentire i problemi di Kant perché poi tu perché ti innamori di Kant perché capisci che i suoi problemi sono gli stessi problemi sei innamorato di Kant ragazzi io pensavo che fossi innamorato dell'amorosa quella che ogni tanto sputa invece sei innamorato di Kant Arianna lo sa che io ho delle relazioni intellettuali con persone morte è un po' di necrofilia è un po' di necrofilia peraltro molto orgiastica perché sono molte le persone morte con cui vorrei fare degli atti inconsulti almeno lì possiamo permetterci lei lo accetta l'ha accettato l'ha accettato a volte sbrocco no quindi il punto è che se tu vuoi far arrivare a far apprezzare Kant a una persona quella persona deve avere alle spalle oltre a una conoscenza un po' più intima dei problemi reali del mondo come dicevi tu però anche un po' di logica un po' di teoria dell'argomentazione ma tu pensa che cioè in 13 anni di scuola non si fa mai un dibattito nelle scuole non c'è mai la possibilità di una volta che si è istituzionalizzato di dire ok prendiamo due idee e cominciamo a scannarci su quelle idee capendo cosa significa sbagliare fare una fallaccia logica cosa significa costruire un'argomentazione è una roba incredibile se ci pensi ma filosofia cosa? è una banale e opaca storia della filosofia quella che si vorrebbe salvare che non serve a nulla da questo punto di vista poi si può anche studiare io non volevo andare oggi è capito vabbè sì sì no infatti infatti però io sono d'accordissimo e poi da lì da lì secondo me in parte le due cose si tengono insieme perché siccome costruisci una visione della filosofia come una sequenza disconnessa di strane idee ma tutte estremamente grandiose questo crea l'immagine che l'attività filosofica sia particolarmente più profonda più vera più interessante più rilevante più necessaria alla tua condizione di diciamo così intellettuale che altre perché invece appunto la matematica la chimica la biologia sono aride mentre la filosofia non lo è quante volte si è sentita ripetere questa sciocca frase no l'aridità delle delle scienze delle tecniche a fronte della profondità bellezza plasticità della dell'idealismo fogliarbacchiano che brutta persona che sei oggi che brutta persona ma dai che scherzo divento una brutta persona ecco brutta mi sono beccato anche della brutta basta grazie rivederci non è tutto oro oro ciò che luce non è tutto penso ciò che luce vabbè insomma mi sono spiegato purtroppo siamo finiti per essere d'accordo ho cercato speratamente di sottolineare le diversità no comunque ti lancio un ultimo ti lancio un ultimo spunto ti lancio un ultimo spunto ok su questo abbiamo già sforato il tempo quindi sforare due minuti in più non fa male la filosofia ha anche un altro aspetto che è fondamentale perché tu da da scienziato da economista da analista della società diciamo così sei molto più vicino a quella cosa che diceva Hegel ovvero la nottola di Minerva arriva sempre sul far della sera perché perché l'analisi in effetti arriva sempre un po' in ritardo sulla realtà cioè è inevitabile ne abbiamo già parlato quando parlammo di tale la realtà deve prima accadere prima che il nostro cervello la registi poi ci vuole più tempo di provare a buttare verso le spiegazioni sbagliate e ovvie quindi la filosofia invece e questa la totalità della filosofia anche quella cattiva ed è questo da cui dobbiamo assolutamente guardarci lavora sui presupposti di come domani si penserà perché per esempio se noi andiamo a guardare una buona parte dei pensa a Deleuze ok Deleuze quando ha scritto i millepiani con il concetto di erizoma eccetera eccetera lui ha veramente messo in piedi il modo con cui una classe intellettuale per 25 anni avrebbe guardato a internet per esempio cioè il filosofo da questo punto di vista produce ma aveva creata per la sua influenza all'interno di un certo cerchio hanno visto eh vabbè però questo è fondamentale capisci che questo è il danno nel senso che il tipo di interpretare all'interno è assolutamente irrilevante permette di capire niente seghe mentali totali ok beh in realtà se vai un po' indietro in un certo ambiente perché l'aveva scritto Gilles Deleuze però se vai a guardare indietro per esempio anche anche Hobbes ha fatto la stessa cosa il leviatano ma ancora meglio il De Cive di Hobbes ha ispirato moltissima della politica successiva ad Hobbes Hobbes non è soltanto uno che ha visto il mondo così com'è e ha detto ah ok questo è il mondo e ne do ragione filosofica ha anche prodotto delle opere che hanno di fatto creato dei movimenti che hanno poi portato ad alcune conseguenze politiche e questo non è solo analisi infatti io sono molto in disaccordo quando spesso si dice la filosofia è arriva sempre in ritardo sul far della sera è vero hai capito meglio quello che vuoi dire tu stai dicendo che in realtà stai attribuendo al filosofo usando l'esempio di Deleuze quello che il buon Keynes attribuiva in realtà c'è la famosa battuta di Keynes secondo cui i politici in particolare i grandi leader dei paesi gli uomini che si credono liberi e indipendenti sono in realtà succubi non mi ricordo se dicesse succubi o schiavi o vincolati alle idee di qualche economista morto sì e non solo di qualche economista cioè nel senso esiste questo elemento certo ma però anche di nuovo qui però siamo a una situazione simile a quella precedente quando ho scherzato sulla tautologia certo ma è quello il punto le ideologie si creano le visioni del mondo si creano e alcune che sono più affascinanti di altri perché totali perché appunto mi sembra che l'esempio che hai fatto del Leviatano sia ottimo perché è un'immagine una bella immagine che cattura tutto e permette di semplificare la teoria dello Stato la politica la funzione in una maniera estrema e di risolvere molti problemi e dire vabbè a me va bene così facciamo così quindi certo l'ideologia allora Carletto Marx si è inventato una teoria della storia la dialettica le classi i destini la linearità dopo il medioevo venne il capitalismo dopo il capitalismo per contraddizione e scontro arrivare al socialismo sono passati circa 150 anni e nel mondo è pieno di una banda di francamente scampati di casa lasciamelo dire lo so che è proibito in questa tua trasmissione ma lo devo dire dei cojoni se no posso dire cojoni c'è niente niente di proibito scampati di casa dico cojoni no no va benissimo scampati di casa cojoni che continuano a volere la distruzione del capitalismo sono lì ogni giorno a discutere sul crollo le contraddizioni perché altrimenti la legge scientifica del signor Carletto da Treviri non vengono falsificate yet another one more time e cazzo non arriva mai il socialismo andassero a pescare sul sile sul sile e me peschi tantissimo sul sile peraltro c'ho Susanna nell'altro video mi è venuto in mente il sile che passa vicino a casa sua no quindi ecco diciamo così per concludere che cazzo vogliamo concludere che mi sono rotto le palle mi sono rotto le palle mi sono rotto le palle di quelli sai qual è il problema che mi sono rotto le palle di quelli che alla domanda a cosa serve la filosofia ti dicono la filosofia non serve a nulla perché non è serva di nessuno un paio di palle cioè nel senso chi ripete sta frase veramente non se ne può più ragazzi anzi questa è una frase che non è serva è la citazione di Aristotele cioè sempre la classica frase del professore quando il ragazzo va e gli dice e sia serva che padrona come tutti i pensari umani semplicemente io ero così oggi quando mi hai detto di cosa parliamo avevo in mente questa riflessione fatta un po' di giorni fa sul fatto che in ciò che si spaccia oggi per filosofia specialmente nel continente c'è un po' di tutto c'è anche idee interessanti cioè è diventata come ti ho detto il terreno della doxa della creazione di ideologie questo tuo punto finale secondo me è rilevante perché proprio per questo e per la sua capacità di creare immagini e visioni del mondo questo pensare non disciplinato dai fatti va toccato con è criptonite pure sì sì va va compreso è un segnale del tempo va toccato con le pinze perché il pensare non disciplinato dai fatti costruisce immagini del mondo teorie non verificabili costruisce appunto ideologia che poi quando affascina crea movimenti causa disastri e alcuni possono essere anche dannosi io continuo a pensare che l'eterna ricerca della contraddizione che distruggerà il capitalismo e ci darà la pace dei sensi sia una cosa dannosa sono pienamente d'accordo su questo certo certo hai visto alla fine baci in bocca Mike baci in bocca è andata così che schifo un bacio in bocca con un foyerbacchiano da Vicenza l'avresti mai pensato avresti mai pensato i livelli di degenerazione a cui la mia vita sta scendendo mi lasciano vabbè come è la roba lì finale che diciamo tutti e due insieme non è tutto noi a ciò che non pensa ciò che non pensa esatto esatto è anche ciò che è foyerbacchiano e di Vicenza ciao a tutti mi raccomando condividete mi piace iscrivetevi ciao Mike ciao 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 ciao